Nei giorni scorsi era stato il sindaco ai nostri microfoni a parlare dell'ormai imminente creazione di una società per il passaggio alla gestione in house del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Stiamo lavorando alla relazione ex articolo 34 da portare in consiglio comunale che prevederà il nuovo sistema e modello di gestione dei rifiuti e quindi è stato fatto anche un lavoro intenso in tal senso da qui a qualche mese credo che andremo verso la costituzione della nuova società in house per la gestione e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Oggi il comune va al contrattacco e contesta a dedo l'ambiente le modalità di svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. In una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo di Città si legge come il servizio continua ad essere carente con tutte le conseguenze che ne derivano sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che per quanto concerne il decoro della città e del suo territorio. Dal municipio sono partite due note a firma del primo cittadino Angelo Cambiano a distanza di tre giorni tra il 18 e il 21 settembre per mezzo delle quali l'amministrazione ha formalmente contestato alla dedo l'ambiente l'assoluta inadeguatezza del servizio effettuato che non riesce a garantire livelli essenziali di vivibilità segnalando ciò a garanzia della tutela della salute pubblica per richiamare le responsabilità della società d'ambito per qualsiasi conseguenziale pregiudizio di natura igienico-sanitario e che nonostante le nostre continue richieste e contestazioni prosegue il documento comunale la situazione non è cambiata e le criticità sono sempre presenti. Le contestazioni di Palazzo di Città nei confronti della società d'ambito territoriale gestita dal commissario liquidatore Rosario Miceli non si esauriscono con lo svuotamento dei cassonetti. L'amministrazione mette in risalto la nota dell'ufficio stampa comunale constata anche che il servizio di spazzamento non viene effettuato con irregolarità né in tutte le zone il diserbo non avviene neanche nei corsi principali la raccolta differenziata è pressoché inesistente i cassonetti non sono sufficienti non vengono lavati e neppure disinfettati. Da ciò la chiosa finale l'ennesima richiesta di improcrastinabili e urgenti interventi da parte della dedo all'ambiente al fine di assicurare un servizio adeguato alle aspettative della collettività e di sviluppo turistico dell'intera città.